Sicuramente il cibo è importantissimo, infatti sono stato onorato di aver ricevuto questo invito in questo convegno molto importante sulla terapia del dolore, dove chiaramente porterò il mio contributo. Io praticamente ritengo che il cibo può senz'altro alleviare il dolore, può alleviare anche la sofferenza. Infatti la cromia, i sapori, i profumi sono un qualcosa che possono aiutare, soprattutto dal punto di vista psicologico, chi magari si trova in una situazione di sofferenza e di dolore.